Sì, non lo scudo! Grave trauma rilevato. Al gente a terra. Merda! Hanno beccato uno dei novi! Grave! 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 Sistema attivato. Segni vitali critici. Arresto del sistema. Sistema ripristinato. Sistema ripristinato. Malfunzionamento del sistema. Sistema riattivato. Sistema riattivato. Arresto del sistema Sistema attivato Malfunzionamento del sistema A un agente serve aiuto Grave trauma rilevato Sistema attivato Sistema sospeso Sistema attivato Sistema attivato Arresto del sistema Sistema riattivato Agente a terra Porca vacca Ce l'hai fatta È incredibile Torna al porto agente Ti meriti una vacanza Non posso credere che te la sia cavata così Io non ce l'avrei mai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Hai lasciato un gruppo Hai lasciato un gruppo Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Non ce l'hai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Area sicura rilevata.